L'ultimo derby della stagione è ormai alle porte. Il Bisceglie si prepara ad affrontare l'esame Virtus Francavilla con lo spirito tipico della squadra che non può più permettersi passi falsi. Il WKO rimediato nelle ultime due apparizioni e la contemporanea accelerata improvvisa della Paganese ultima in classifica obbligano Cerofolini e compagni a tirare fuori il carattere per tornare a casa con almeno un punticino. In presa non facile se si considera che dall'altra parte c'è una compagine con 49 punti adattivo in classifica che proprio Alfanuzzi, campo imbattuto dallo scorso 9 dicembre, ha costruito le basi per una rinascita che l'ha portata a uno stabile piazzamento playoff, obiettivo non irraggiungibile però. Se si prende in analisi quanto accaduto nei precedenti derby stagionali, due pareggi per 0-0 nella gara d'andata con la Virtus e in quella di ritorno con il Monopoli e una sconfitta interna contro lo stesso Gabbiano all'andata in una partita decisa dalla rete del solito Dudu Magni, l'unico pugliese capace fin qui di violare la porta nerazzurra, l'auspicio in casa stellata e che la buona tradizione possa proseguire anche domenica all'interno di uno degli appuntamenti più importanti del campionato, Banoli recupera Triarico, rimasto fuori contro i rieti a causa di una borsite al piede e può tornare a contare sull'apporto del leader difensivo Markic, a rientro dopo un turno di squalifica, indisponibile a centrocampo invece Risolo, fermato dal giudice sportivo per una giornata, al suo posto pronto parlati, suo sostituto naturale nel ruolo di interno destro, notizie agrodolci, per un bisceglie che però, al netto di tutto ciò, si ritrova adesso di fronte all'ultimo appello della sua stagione, vietato trovare ulteriori alibi. Grazie